Mi sarei Ettore Cellerino, oggi per il tuo Moretta una vittoria pesantissima contro il Cuneo al termine di una gara appassionante in cui è successo un po' di tutto, tanti episodi però per voi tre punti veramente chiave nella lotta per la salvezza. Come hai visto la partita oggi? Hai ragione tu, avevamo bisogno assolutamente di vincere una partita perché il gap rispetto alla salvezza diretta cominciava a essere importante. Settimana scorsa il tuo collega mi ha intervistato a fine partita e ho detto che io come vedo il calcio, il calcio per me è sacrificio, è spirito di gruppo, è voglia e settimana scorsa a Centallo purtroppo non ho visto nulla di tutto questo. Quando è così i ragazzi bisogna solo fargli i complimenti perché hanno dimostrato di avere tutte queste doti quindi la prestazione da parte di tutti quanti si è vista, grosso sacrificio, grossa applicazione a partire dai più anziani quindi posso che fargli i complimenti. Siete stati bravi anche a rimetterla subito in piedi dopo aver preso il gol praticamente all'inizio perché insomma il rischio che poi la partita potesse girare male c'era, invece insomma grande reazione nel primo tempo. Sì, tra l'altro abbiamo preso il gol su una giocata che penso di averla detta 10 minuti prima dell'inizio della loro partita perché è una giocata che sapevo che loro facevano, la palla di Marchetti su Dalmasso, poi non so se lui abbia voluto tirare o abbia voluto crossare, ha fatto un tiro particolare, sì, poteva essere sicuramente, questo aggiunge il valore a tutto quello che ho detto prima dopo un minuto e mezzo andare sotto, visto il periodo da cui arriviamo, poteva essere sicuramente un'ammazzata. Invece siamo stati squadra, siamo stati gruppo e la partita l'abbiamo rimessa a posto. Questa è un'annata continua a dirlo, per noi particolare perché oggi me ne mancavano, se non ho fatto male i conti, sette sicuri ma questo è da inizio anno, sette giocatori importanti, non avevo praticamente un cambio, cioè solo uno, Fioriello poi gli altri erano tutti della Juniors, Morello ha giocato zoppicando praticamente tutto il secondo tempo niente, complimenti, davvero complimenti e questa è la dimostrazione che se si vuole, poi nel calcio si può vincere e si può perdere perché ci mancherebbe, però lo spirito deve essere alla base di tutto. Mister Montante non lo scopriamo di sicuro oggi, però bisogna dar merito alla parità che ha fatto al di là, io dico, dei gol che ha segnato perché ha fatto poi una grande parità di sacrificio, di corsa e si è tenuto spesso l'attacco sulle sue spalle. Marco è un esempio per tutti, basta leggere il curriculum di Marco, è un esempio durante la settimana è un esempio la domenica, lui Campanaro, D'Agostino, giocatori che oggi c'erano più esperti l'hanno secondo me dimostrato, D'Agostino sta rientrando dal Covid e lui scherza dicendo che è mezzo infartato ha 40 anni, questi sono gli esempi, io lo dico sempre, sono i vecchi che devono trainare il gruppo e quando loro si mettono davanti fanno la differenza, io sono orgoglioso di avere dei giocatori di questo peso e soprattutto uomini perché oggi sono stati uomini.